Ci troviamo all'ingresso della sede principale, della sede centrale di poste italiane e sono in compagnia di Francesco Marchese. Siamo qui perché? Perché assistiamo all'ennesima mobilitazione per quanto riguarda il mancato rispetto delle leggi, delle condizioni che si devono tenere all'interno di un luogo di lavoro. Il protagonista di questa situazione è la Nial Mail SRL, che pare non si stia comportando tanto bene nei confronti dei lavoratori stessi. E quindi noi siamo qui per capire un po' meglio quello che sta accadendo. E chi meglio di lei, il signor Francesco Marchese di USB, può in qualche modo chiarirci che cosa sta accadendo? Sì, oggi noi siamo in sciopero con le lavoratrici, i lavoratori della Nial Mail di Taranto, l'ennesima mobilitazione questa volta davanti alla sede centrale di poste italiane per denunciare pubblicamente il sistema distorto di appalti, subappalti e società satellite che caratterizza tutta l'avvertenza dei lavoratori di Nial Mail e che chiama in causa direttamente proprio poste italiane come committente e proprietaria del marchio Keypoint, sotto la cui insegna opera a Taranto appunto la Nial Mail. E che è il sistema che ha consentito in questi anni di alimentare quella condizione di precarietà, iper-sfruttamento e negazione dei diritti che tutt'oggi subiscono i lavoratori della Nial Mail di Taranto, a spese dei contribuenti pubblici, perché parliamo di commesse pubbliche per l'appunto. Ma naturalmente oggi siamo in sciopero anche per protestare contro l'ingiusto licenziamento di Ines Marino, la lavoratrice che alla vigilia di Natale è stata messa alla porta dalla Nial Mail con una contestazione del tutto infondata, basata su una inesistente segnalazione da parte del Comune di Taranto, la cui inesistenza abbiamo accertato tramite il comandante stesso della Polizia Municipale, il colonnello Matichecchia, e che maschera l'unica vera colpa di Ines Marino, cioè quella di aver condotto un gruppo di lavoratori compatti ad aderire al sindacato e rivendicare condizioni di lavoro più eque. E infatti l'iniziativa di oggi serve anche a questo, a continuare a portare avanti la rivendicazione di una più equa condizione di lavoro, di stabilizzazione del lavoro precario, di rispetto delle norme sulla sicurezza nel luogo di lavoro, di applicazione del contratto nazionale da parte di una società che invece nel corso di questi anni ci ha abituato ad una sistematica pratica di illusione delle norme, di raggiri delle norme, come per esempio il ricorso a svariate società satellite che operano tutte all'interno degli stessi locali aziendali che servono per spostare tra loro i lavoratori, mantenendoli in una condizione di perenne precarietà. Quali saranno le prossime azioni che intendete porre in essere se le condizioni non dovessero cambiare? Ma intanto oggi stiamo procedendo al deposito del ricorso in tribunale contro il licenziamento di Ines Marino. Nei giorni scorsi, nelle settimane precedenti abbiamo tenuto presidi davanti a Palazzo di Città, l'altro grande committente, il Comune di Taranto di questa società, che ci ha informato proprio nei giorni scorsi tramite il direttore generale, il dottor De Carlo, di tutta una serie di iniziative che stanno ponendo in essere per stringere il cerchio dei controlli intorno a questa società. L'interessamento diretto da parte del commissario prefettizio, il dottor Cardellicchio, ci lascia ben sperare che a breve si arrivi ad una svolta positiva, che passi certamente dal reintegro nel posto di lavoro di Ines Marino e poi alla regolarizzazione di tutta la situazione contrattuale. Se questo non dovesse avvenire in tempi brevi, naturalmente continueremo con le iniziative di mobilitazione e di lotta. E noi sicuramente con le nostre telecamere ci saremo, ringraziamo il signor Marchese e vi auguriamo un buon proseguimento.